ciao ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi nuovo tutorial e sarà un tutorial in collaborazione con la bb craft allora se avete visto il video precedente in cui mostri i materiali che ho scelto dalla bb craft avrete visto i componenti in metallo che ho preso che questa volta utilizzerò non con le perline cioè rivestendo le di perline ma rivestendoli con un filato quindi sarà il mio primo tutorial a uncinetto i primi che ho voluto fare diciamo per prova molto molto semplici con queste basi punto metalliche sono questi semplicemente rivestendoli con un filato e aggiungendo questo piccolo sconto centrale queste sono le forme quadrate che ho preso le ho fatti anche con la forma a goccia inserendo facendo questo piccolo fiorellino e poi inserendo la perra e rivestendolo collegandolo poi con questa forma metallica a forma di goccia qui invece li ho realizzati scusate con la base circolare questi facendo sempre dei piccoli fiorellini inserendo sempre qui al centro questi ciondoli a forma di farfalla sono molto semplici sono leggerissimi li possono realizzare anche i principianti chi non si è mai avvicinato all'uncinetto perché è davvero semplice da fare oggi andremo a fare invece in questa colorazione molto estiva molto primaverile leggeri anche questi qui ho utilizzato una base da 30 mm mentre invece qui è una base da 25 mm naturalmente per questi orecchini avrete bisogno oltre che delle basi che può essere grande o piccola questo lo scegliete voi del filato e delle perline e poi se volete inserire al centro qualcosa una perla un cipollotto qualsiasi ciondolino che avete a disposizione per appunto abbellire l'orecchino allora vi mostro subito i materiali prima di mostrarvi i materiali vi ricordo il codice coupon che la bibi craft mette a disposizione per tutti voi iscritti che è lucrezia 10 che trovate scrittosi qui sia qui sul video che nell'info box e vi ricordo anche che con 25 dollari di spesa la spedizione è gratuita allora per i materiali allora queste sono le basi le basi che io ho scelto dal sito della bibi craft queste sono le basi miste quelle a forma di quadrato cerchio e a forma di goccia e queste invece sono tutte basi a cerchio dalla più piccola che misura 14 mm fino ad arrivare ai 30 mm quelle che andrò ad utilizzare per questo tutorial sono veramente fatte bene e vi ripeto potete utilizzarla non soltanto con il filato quindi rivestendole ma anche con le perline quindi a break stitch ci potete fare tante cose queste invece sono quelle a forma mista quelle che ho fatto con il quadrato e la forma di goccia ci sono quattro misure differenti di di queste basi per per forma dalla più grande che questa la forma guccia fino poi ad arrivare alla più piccolina lo stesso vale per il cerchio e per il quadrato sono veramente belle mi piacciono tanto queste forme allora vi faccio vedere prima il codice di queste forme miste che questo invece per queste tonde il codice è questo sono quelle che andrò ad utilizzare per per fare questi qua circolari e queste sono le basi metalliche io ho inserito questi ciondolini che sono veramente belli e fatti benissimo a forma di farfalla sono veramente stupende si possono appunto aggiungere a qualsiasi creazione il codice di queste farfalle è questo poi scusate qui ci sono delle perle da 4 mm queste perle le ho presa sempre dalla bb craft arrivano appunto in questa box e sono tre misure differenti 46 e 8 e il codice è questo io andrò ad utilizzare quelle da 4 mm belli colori molto primaverili vi faccio vedere di nuovo il codice che questo poi avrete bisogno di un uncinetto io andrò ad utilizzare un uncinetto 1,5 il filato due colori di filato allora questo che è un filato di cotone misura numero 5 e mi servirà per rivestire la base metallica questa e poi un filato sempre un filato di cotone ma non vi so dire purtroppo il numero perché non ho la targhetta ed è molto più sottile rispetto a questo di che andrò ad utilizzare a questo numero 5 se voi vedete molto più sottile servirà per fare appunto i fiorellini perché se ne andasse a fare con con questo filato verrebbero un po più grandi quindi in base allo spessore del vostro filato i fiorellini verranno o più grandi o più piccoli dipende come li volete poi naturalmente vi servirà io andrò ad utilizzare un ago con la cruna questa centrale perché le perle queste da 4 non mi entrano in questo ago più grande che andrò dove inserirò appunto il filato quando dovrò fissarli dovrà cuscirli su questo bordo quindi andrò ad utilizzare prima questo per inserire le perle sul filato e poi utilizzerò questo con la cruna grande ma se voi avete un ago che passa all'interno delle perle da 4 mm userete un solo ago della colla ho dimenticato di prenderla allora la colla a me servirà soltanto io userò a solit ma potete utilizzare qualsiasi tipo di colla soltanto quando si va a tagliare il filo e quindi a metterlo sul sul nodo che si forma per non farlo sfilare ma solo per questo vi servirà un po di colla e delle forbici naturalmente vi servirà un perno o una monachella e degli anellini per agganciare sia il perno che un ciondolino da inserire all'interno questo è tutto il materiale che servirà per realizzare questi semplici orecchini con questi piccoli fiorellini bene io adesso mi preparo tutto e passiamo al tutorial ciao a tutti allora iniziamo andandoci a formare i fiorellini io per questo orecchino ne ho fatti tre quindi due già li ho preparati e adesso andrò a fare il terzo fiorellino quindi vi faccio vedere come è semplicissimo fare questi fiorellini allora lasciatevi un po di codina e andiamo a formare il nostro anello magico si forma in questo modo attorcigliamo il filo attorno alle dita inseriamo l'uncinetto sotto al primo filo e andiamo a pescare il secondo e ci facciamo una catenella e abbiamo formato il nostro cerchio magico ora andremo a lavorare all'interno del cerchio magico ora facciamo due catenelle che equivalgono al nostro primo punto alto mettiamo il filo sull'uncinetto rientriamo all'interno del cerchio magico e peschiamo il filo e lo tiriamo fuori da avere tre asole vedete sul nostro uncinetto ora rimettiamo il filo sull'uncinetto ora rimettiamo il filo sull'uncinetto rientriamo all'interno del cerchio magico peschiamo il filo e lo tiriamo fuori rimettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere soltanto queste due asole e così avremo sul nostro uncinetto tre asole e adesso li possiamo chiudere insieme rimettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiuderle tutte e insieme rifacciamo due catenelle e adesso ci andiamo a chiudere all'interno del cerchio magico con un punto bassissimo quindi rientriamo senza mettere il filo sull'uncinetto rientriamo nel cerchio magico peschiamo il filo e chiudiamo il lavoro con un punto bassissimo e questo è il nostro primo petalo rifacciamo la stessa cosa 2 catenelle mettiamo il filo sul nostro uncinetto rientriamo all'interno del cerchio magico peschiamo il filo e lo tiriamo fuori ora rimettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere solo le prime due asole e ci rimangono due sull'uncinetto rimettiamo il filo rientriamo all'interno del cerchio magico peschiamo il filo e lo tiriamo fuori rimettiamo il filo sull'uncinetto e ci chiudiamo sempre le prime due asole in modo da avere soltanto tre sull'uncinetto vedete ora rimettiamo il filo e chiudiamo tutto insieme facciamo di nuovo due catenelle e ci andiamo a chiudere all'interno del cerchio magico con un punto bassissimo e questo è il nostro secondo petalo per fare il fiorellino ne dobbiamo fare cinque vedete uno due tre quattro e cinque quindi altri tre quindi fate la stessa cosa e ci vediamo all'ultimo petalo sto per fare l'ultimo petalo quindi faccio due catenelle metto il filo sull'uncinetto rientro all'interno del cerchio magico e tiro fuori rimetto il filo sull'uncinetto e vado a chiudere le prime due asole di nuovo filo sull'uncinetto rientro nel cerchio magico pesco il filo e lo tiro fuori e mi vado a chiudere sempre le prime due asole e adesso vi metto il filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutti e tre due catenelle e vado a chiudere all'interno del cerchio magico con un punto bassissimo e ho formato i cinque petali 1 2 3 4 e 5 ora con la codina che ci siamo lasciati all'inizio vedete questa andiamo a tirare ea chiudere il nostro fiorellino ed eccolo qua questo è il nostro fiorellino ora vado a chiudere il lavoro con una maglia bassissima e vado a chiudere sulla prima catenella del primo petolo che abbiamo formato quindi vado a chiudere il mio lavoro con un punto bassissimo ed ecco qua ho chiuso faccio una semplice catenella adesso vado a tagliare il filo e lo sfilo e tiro tiro anche l'altra parte e così abbiamo formato il nostro fiorellino ora questo filo me lo vado a portare più verso l'interno vado ad inserire un attimo lago così me lo porto verso l'interno passo attraverso vedete questo sul retro è anzi no e questo il retro scusate venete passo così soltanto all'interno dei punti e me lo porto sul retro con l'altra codina che mi sono lasciata prendo l'altro ago quello con la sola centrale perché devo inserire me lo devo portare sul davanti per inserire la perla quindi vado ad infilarlo e cerco di passare all'interno il più vicino possibile perché me lo voglio portare sul davanti vedete ora prendo la mia perla e la inserisco lo tolgo questo perché non si piega e quindi non passa bene attraverso il lavoro quindi vado a infilare l'altro ago infilo l'altro ago e adesso passo qualsiasi punto il più vicino possibile al centro e mi vado a fissare la mia perla vedete al centro del fiorellino adesso non faccio altro che fare un semplice nodo con l'altro filo non stringete tanto perché altrimenti si piegano i petali faccio un secondo nodo ed ecco qua abbiamo chiuso il nostro fiorellino ora taglio i due fili e poi su questo nodo vado ad applicare un po di colla per non farlo sfilare metto semplicemente un po di colla potete usare benissimo una tac qualsiasi colla che non macchi però e poi lo lascio asciugare ed ecco qua abbiamo fatto i nostri fiorellini ora andiamo a rivestire la nostra base in metallo con l'altro filo allora trucchiamo il filo attorno al nostro dito inseriamo l'uncinetto sotto al primo e peschiamo l'altro e formiamo così un nodo ora prendiamo la nostra base il filo lo teniamo da questa parte passiamo all'interno questa codina se ci riuscite tenete la a fianco alla base in modo da inglobarla man mano che andremo a lavorare quindi adesso andiamo a rivestire la nostra base tutti con punti bassi quindi andiamo a fare una catenella ora ci inseriamo all'interno prendendo anche il filo sotto peschiamo il filo lo tiriamo fuori e andiamo a chiudere di nuovo all'interno della base peschiamo il filo lo tiriamo fuori e andiamo a chiudere rientriamo all'interno della base peschiamo il filo lo tiriamo fuori e andiamo a chiudere con un punto basso questo lo andremo a fare per tutta la circonferenza della nostra base in metallo l'unica cosa è man mano che lavorate avvicinate i vari punti perché man mano che si lavora possono allargarsi e quindi si può vedere la base in metallo sotto basta soltanto avvicinarli quindi andate a lavorare in questo modo per tutta la circonferenza della base è molto semplice peschiamo il filo e andiamo a chiudere facciamo in questo modo vedete molto molto semplice quindi ci vediamo quando saremo arrivati qui in fondo siamo arrivati alla fine vedete ricoperto tutta la base metallica e dobbiamo chiudere il nostro giro e lo chiudiamo in questo modo agganciandoci vedete alla prima catenella questa che abbiamo fatto quando ci siamo agganciati alla base metallica quindi rientriamo nella catenella peschiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo ora ci alziamo con una catenella che equivale a un punto basso e adesso dobbiamo lavorare punto su punto dobbiamo fare un secondo giro quindi entriamo nel prossimo punto prendendo tutte e due le asole del punto sotto tutte e due le asole peschiamo il filo lo tiriamo fuori e ci andiamo a chiudere prossimo punto stessa cosa prendiamo ci inseriamo all'interno delle due asoline prendiamo il filo lo tiriamo fuori e chiudiamo con un punto basso prossimo punto ci inseriamo all'interno delle due asoline peschiamo il filo tiriamo fuori e chiudiamo con un punto basso dobbiamo formare un secondo giro che si andrà a da allargare naturalmente formando appunto questo bordo più ampio per poi appunto inserire i nostri fiorellini quindi dobbiamo continuare fino alla fine fare tutto il giro entriamo nelle due asoline peschiamo il filo e chiudiamo con un punto basso entriamo di nuovo prossimo punto e chiudiamo con un punto basso e dovete continuare così fino alla fine sono arrivata alla fine come potete vedere e adesso mi vado a chiudere sulla prima maglia bassa di questo secondo giro che questa vedete con una maglia bassissima quindi rientro pesco il filo e vado a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo terminato la nostra fascetta attorno al cerchio metallico ora vado a fare semplicemente una catenella di chiusura taglio il filo lo sfilo e poi questo filo lo andrò a passare a infilare con l'ago e passare all'interno delle maglie per nasconderlo e metto poi un po di colla quindi faccio un attimo questo e ci vediamo dopo ed ecco qua abbiamo terminato la nostra base e adesso vi farò vedere solo il primo come cuscire il primo fiorellino gli altri due verranno fatti sempre nello stesso modo quindi per me io posiziono quello che sarà il mio centro poi quindi mi vado ad agganciare tagliato un po di filo infilato lago quindi vado ad agganciarmi e poi ripasso una parte qualsiasi del fiorellino qui al centro quello porto giù posizionandolo bene mi raccomando e poi con lago vado a passare all'interno proprio della delle maglie ora rientro solo nel bordo e poi mi collego nuovamente al fiorellino cercando di non uscire con il filo dall'altra parte non serve fare chissà quanti passaggi perché si tiene benissimo potete anche utilizzare una colla a caldo volendo io adesso rientro sempre qui nel bordo della base e adesso non faccio che ripassare attraverso delle maglie per per poi bloccare il filo possiamo anche ripassare attraverso queste maglie ed ecco qua abbiamo posizionato il nostro primo fiorellino e adesso allo stesso modo vado a posizionare anche gli altri due vedete in questo modo qui quindi ci vediamo dopo ed ecco qua il nostro orecchino è terminato lo agganciati con semplicemente degli anellini molto semplice questo è l'altro questi sono gli altri due come vedete è davvero semplice poterli realizzare basta veramente poco queste sono le altre forme che ho rivestito sempre all'uncinetto e sempre con le farfalle io spero di essere stata chiara che il tutorial vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti vi chiedo a chi non è ancora iscritto di iscriversi al canale di mettere un pollice in su e di attivare la campanella così restate sempre aggiornati su nuovi video io adesso vi saluto vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto ciao a tutti